Guardate che nel lavoro ci abbiamo una marea di stravolti, è diventato chic essere stravolti dal lavoro. Persone normalissime che ti dicono abbiamo 300 email, ma chi ti scrive? Ma è diventato tutto il genere, ma tutto il genere, non c'è più distinzione, ma se l'impresa non ha priorità, guardate ragazzi che siamo in difficoltà vera, abbiamo una cosa seria, ne discutiamo. La cosa che possiamo discutere fra due giorni, fra tre giorni, ci hanno mai risposto. Quindi io credo che noi dobbiamo essere veloci, rapidi, geniali, accorciare tutto questo. Perché guardate che tutta sta marea di meeting che si fanno, sono stato ospite di 25 manager, super manager, cominciate a parlare, tutti facevano i messaggini, ma scusate, ma chi si deve collegare con te? Trump vuol dire che tu hai un tasso di deconcentrazione altissima.